Ragazzi è arrivata la nuova modalità di Verdansk e con essa anche una nuova arma, ve la faccio vedere subito Una nuova mitraglietta dovrebbe essere, che si chiama, si chiama, si chiama, si chiama Lapa La nuova mitraglietta automatica, prodotto tipo leggero con danni costanti e un buon controllo del fuoco Per sbloccarla dobbiamo completare le sfide di Warzone di Cold War Quindi vi do anche questa notizia, sembra essere anche abbastanza buona, non ancora in meta Però, però ha delle potenzialità, quindi io vi lascio il gameplay, vi faccio vedere cosa è successo in questa nuova modalità Fatemi sapere la vostra costruzione come sempre nei commenti E noi ci vediamo sempre domani con dei nuovi fantastici video, ciao! Cosa hanno aggiunto? Questi contratti blu sono le aree, diciamo, dove se ci entri i fantasmi non possono entrare Ah, tipo bolla di sicurezza, va Beh, questa è l'unica differenza, va Non si vede la mazza, però Vabbè, andiamo E poi c'è la nebbia, anziché essere notte, c'è la nebbia Dove siamo? Ok, qua È in banca Ah, non è di notte? Ah, questa è nebbia? Vabbè, meglio, è uguale alla notte Sì, a livello visivo L'hanno spacciata per nebbia, tanto per far sembrare che fosse una novità, diciamo Eh, sì, sì, sì E poi hai la sanità mentale Che ha la sanità mentale? Che più diventa rossa, più ti spuntano tipo ragni nello schermo, mosche, eccetera, eccetera Vabbè, no, vedremo questo, vediamo un po' Ma a livello di armi è sempre al burger, ottimo, io ce l'ho l'arma Penso sia uguale, eh Aspetta, c'è una novità al riguardo, però Aspetta, aspetta Non lo vedo Spariamo? Eh, no Però perché qualcuno, c'è la porta principale aperta Ah, sì, sì, io sono andato Ah, c'è la gente che sparava qua, dove sono finiti Mi sono spariti Eh, perché con la nebbia non vedi No, ma non è che non vedono, non ci sono proprio Non li vedi, non li vedi, con la nebbia non li vedi Ma erano qua che sparavano, non è che non li vedono, non ci sono proprio Perché con la nebbia si sono confusi Si mimirizzano, si mimirizzano Oh, vabbè Fai stila, taglia dall'anno 3 Oh, bella Vi guardiamo che ci siamo 2 contro 3, eh Come manco Ah, sono in manco Vabbè, saliremo Saliremo Eh, arrivano allora Sì, è morta Io ho 2 MG82 Tanto non ci vedranno, c'è la nebbia Ci facciamo il troppo pompieri Sì, 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 certo Occhiali che sono là Le vittime aumentano, i nasconditi diminuiscono Le vittime aumentano, i nasconditi diminuiscono Adesso Minchia, arriva Aiuto Aiuto Sali, sali, sali Minchia, arriva Vai, io copri le scale Sì, che sto coprendo Vai, vai, vai Prendilo E poi copri tu Arriva, mi sa Zona tende, arriva Mi sa Zona tende, vai Vado a prendere un attimo Che cazzo è? Una corda di piolino Ah, certo Sono spaventosi Sì, sì Tende, tende, tende Giulia, in questa tenda qua Non me lo pingo, 27 metri Me ne pingo uno però Che ho, senza di tomba Vai, vai, proviamoci Vai qua dentro No, non è vero Che cazzo è in volo? Allora, in questa tenda Sì, sì, qua dentro Qua dentro Sì Oh, fatto, fatto Oddio Oh, cazzo c'è Mi è spuntato Ah, arriva Ho uno è sceso Eh, dove, dove, dove Non l'ho visto Posso dire il prego tu te Non lo pingo, non lo pingo Non è qua C'è un senso di tomba È riuscito allo shop Ah, qua, Giulia Lo stanno crossando Davanti a noi Craccato, a terra Craccato Fatti Minchia E come crossavano Felici E legri Che lo stavano crossando Ma ora, scusa Questi qua sono morti Si sono trasformati in fantasma Eh, sì, bravo Eh, ora non ci vengono a fare il culo Scusami Eh, sì, infatti abbiamo il fantasma qui No, beh, oh Mi cago sotto Ah, ma neanche lo pinga Ah, sì, ok Ho visto che ha saltato No, lo va vi però non lo pinga Occhio Occhio, arriva uno Craccato Fatto Fatto Oddio Ma, ah, è questa cosa Ok, ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Dici nella mappa Sì Sì, sì infinita questo è ovviamente non la vita è più alta oddio un altro non più colpi devo ricaricare devo scudarmi anche vai 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 cerco di coprirti ah si sente forse dal battito del cuore se si avvicina vero non ne ho idea ma basta per forza qua non ce n'è qualcun altro e no perché ci senti si vendicano si vendicano sono due drop vendicatevi con qualcun altro ah no c'ho dietro dove aiuto basta mi spara ma non lo vedo ma dov'è ma dove l'ho preso aiutami l'hai fatto 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 oddio mi ha zoomato tutto ma poi non si vede oh qua qua arriva 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 il cuore il cuore il cuore che pulsa oh merda che cazzo è sto coso qua qua arriva fatto 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 ma la conta la fantasma e che poi ci possono teletrasportare capito beh si si la conta come kill eh si si ok ciao due drop qua è andato ah non binga vediamo un po' che abbiamo nessuno eh spostiamo ci va andiamo dall'altra zona no occhio al treno magari c'è gente si che era un bingolo ah ma c'era pure la bandierina va ancora sono due qua sopra io ho silenzio treno ma quindi questo questo teschio che ho qua sotto sarebbe la sanità mentale non aspetta che non sento niente che c'ho lo jumpscare prego dicevo questo teschio che ho qua sotto sarebbe la sanità mentale sì 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 in che modo va a peggiorare dico in che modo va a peggiorare oh c'è un fantasma davanti no gente sul tetto hai gente un full team sul tetto merda sono morti sono morto no no qua era un full team sul tetto era un full team sul tetto vai vai ci vado con fantasma dov'è ok sono morto aspetta non so come ah no c'è un fantasma davanti posso i fantasmi portare i nemici aspetta c'è un fantasma sto cercando di inseguirlo ma i fantasmi possono uscire i fantasmi ma non devi fare niente con il fantasma no ah ok e vabbè che ne so io devi cercare anche delle palline blu se trovi delle palline blu prendile che te devi versene vai 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 dove dove ah l'ho trovata una due aspetta mi urla nell'orecchio aspetta no gente davanti qua gente davanti a me vieni da me vieni da me vieni da me vieni da me qua 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 dentro dentro l'autobus aspetta ho fatto un salto enorme dove quale autobus questo mi muovo ok lo vedo lo vedo anche qua sopra anche qua sopra aspetta ho fatto qualcosa sono tornato in vita sono tornato in vita aspettami aspetti con le mie armi bellissimo che ci sono ci sono e mi serve una piastra giro per favore che è un fantasma davanti qua 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 no ma non so se abbiamo gente qua vicino non ne ho idea sì sì ce n'erano due due uno è sopra un tetto e uno era qua ma non so dove si si è il cuore il cuore senti il cuore si sta avvicinando oh merda è qui no no questo non è il fantasma è qua sopra è qua sopra non è il fantasma non è il fantasma questo bravo bravissimo 1 2 il c4 veloce più che arriva veloce più che arriva il cuore il cuore il cuore ma il cuore non ho capito se è la sanità mentale arrivano arrivano e non ho piastri però finché mi sono assurdito e qua a destra nooo non vedo niente nooo mi è spuntata la scritta ma non vale ma non vale mi è spuntata la scritta ma non ho visto nulla ma giustamente devo sparare ti stacchiamo oh ma sono davvero sfortunato occhio c'è lei sopra nel tetto giulio salta aspetta aspetta non lo so controllare bene purtroppo sei morto pure tu ma squagliato io sono morto definitivamente ah sì esplosione spettrale oh però se esplosione spettrale ma questo che fa scenderà prima o poi o resta il suo studento a vita ok non è una bella idea effettivamente non si deve muovere no 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 basta basta maronna che esagerato tanto ti devi muovere che fa non ti aspetto ma lui mi vede dalla mappa ah ne ho un altro popolo no senza popolo ehi amico oh merda dove è un full team no dov'è esplosione spettrale l'ho fatto no vabbè però dai carina simpatica no ventunesimi quando eravamo 6 e 5 la classica sì la classica è carina la classica di Halloween diciamo dai niente male sì 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 Grazie a tutti.